Facciamo la colonna sonora dei film dell'oruro, guarda come si fa a fare la colonna sonora. Tanto che il mar succhere deve batter via. Speriamo che non mi si chiude in testa come il cofono della macchina. Qui quando col coltello accoltano una persona, una donna. Vediamo se funziona qualche tasto. Non fa contatto! Anche questo cordato. Anche questo cordato. Non c'è qualche mezzo tasto che va? Non c'è qualche mezzo tasto. Non c'è qualche mezzo tasto, bisogna regolare la distribuzione. Per forza la crete Mars. Sono staccati tutti i martelletti o come cavolo si chiamano. Aspetta. Si, si potrebbe aggiustare. Aggiustare. E metto me in due ore che è il baracchè. Alla che. Alla che tutti i tamburelli là, come si chiama? Alla che tutti i tamburelli là, come si chiama? Alla che. Alla che. Alla che. Grazie.